Chiamo Andrea, ho 37 anni, sono un geometra, ho lavorato 15 anni in uno studio d'architettura. A un certo punto ho avuto necessità di cambiare percorso e quindi ho deciso di fare un attimo una pausa, appunto avendo lavorato ininterrottamente per 16 anni, ho incominciato un po' a cercare qualche alternativa che non fosse subito un lavoro. Volevo qualcosa che fosse più un percorso, che mi avvicinasse a una posizione lavorativa, che rispondesse alle mie passioni. Conoscevo già i FOA perché avevo già guardato che corsi proponevano. Ho trovato questo corso, IFTS Industrial Designer, che diciamo che sulla carta rispondeva a tutte le mie aspettative, aspettative, materie concrete e presentate soprattutto da docenti con alle spalle un background lavorativo vero, un qualcosa che mi preparasse veramente a un nuovo salto lavorativo, a un nuovo ambiente. E devo essere onesto, queste aspettative sono state assolutamente ripagate. Del corso intanto sono pienamente soddisfatto. Quello che mi è rimasto è stata sicuramente l'esperienza in aula con persone, con esperienze diverse, che è stata molto utile e stimolante. Sono riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero prefissato e l'unico modo era appunto affrontare il corso al massimo dell'impegno, con la costanza e perseveranza che richiede. Un consiglio che posso dare a persone che si trovano nella mia situazione, più o meno, è quello di impegnarsi in qualcosa seriamente e concretamente, come ho provato io a fare con questo corso, e i risultati arrivano. La perseveranza, l'impegno, la serietà pagano sempre.